L'associazione Movimento per la Vita organizza il secondo video festival del mare, Città di Civitavecchia. Quali sono le modalità di partecipazione e quando si svolgerà questo importante evento? Allora, le modalità di partecipazione le troviamo sicuramente su due siti, uno del International Tour Film Festival organizzato da Piero Pacchiarotti e l'altro proprio per quanto riguarda il Movimento per la Vita, dove dovrebbe scorrere in sovrimpezione. Comunque, a dire di questo, il video festival verrà eseguito esattamente il 7 ottobre all'interno dell'International Tour Film Festival, che verrà effettuato tra il 4 e l'8 ottobre alla Cittadella della Musica. Ricordiamo che è organizzato dal grande Piero Pacchiarotti, che salutiamo e do anche un saluto. Ecco, questa è una cosa importante per voi, perché vi dà una vetrina internazionale. Sì, questo video festival, scusa, il International Tour Film Festival, ormai è arrivato, non mi ricordo mai anche a quale edizione, però veramente arrivano centinaia e centinaia di video da tutto il mondo e quindi ha anche parecchio riverbero a livello internazionale. Abbiamo detto che è organizzato da voi del Movimento per la Vita, un'associazione importantissima a Civitavecchia, ma non solo. Che cosa vi aspettate da questo film festival, da questa seconda edizione? Che cosa vi aspettate appunto voi del Movimento per la Vita? Beh, è nato appunto dall'iniziativa del Movimento per la Vita, ci aspettiamo partecipazione anche e soprattutto per la finalità di volontariato, insomma di solidarietà che c'è alla base di questa manifestazione. Il Movimento per la Vita è una realtà bellissima del nostro comprensorio, opera ormai da oltre 36 anni nella nostra città e la sua vocazione principale è quella di aiutare la vita. Tornando invece all'evento che si svolgerà il 7 ottobre, quali sono i vostri ruoli per appunto questo evento? Vabbè, il ruolo, lo dovrebbe sapere, lei fa la presentatrice, mi sembra. Io faccio, sì, io sì, ma tu invece che fai? A me veramente ancora non me l'hanno detto, c'è qualcosa? No, ma mi ricordo di te, lui ieri, o meglio l'altra edizione, ieri me l'hanno confermato, era il disturbatore, quindi aiuto. Anche quest'anno farei il disturbatore. Diciamo che siccome è troppo seria quando presenta, allora ogni tanto uscivo io con la parrucca e facevo qualche personaggio. Va bene, quindi anche quest'anno ce l'avrò intorno, insomma. Vi ricordo, termine ultimo per l'iscrizione è il 5 settembre. Bravo, il mio disturbatore. Venite, mi raccomando, è importante. Mi raccomando, eh.